Siamo con l'Avvocato Angelo D'Abramo, Sindaco di Leporano, uno dei numerosissimi eventi di questa rassegna Restate a Leporano, è un incontro con l'autore, serate appunto d'autore, e Pino Aprile ci parla del nostro tanto sofferente Sud. Una pubblicazione che la dice lunga sulle nostre sofferenze e anche sull'orgoglio di essere meridionali. Io sono un meridionalista puro, quindi sin dalla nascita e continuo ad essere, non sono mai stato colonizzato, quindi la presenza di Pino Aprile qui è importante, lo aspettavamo da tempo sinceramente, anche perché avevamo bisogno di attingere da lui notizie storiche e certe relativamente al nostro bistrattato Sud che è stato chiaramente messo da parte e saccheggiato anche se vogliamo da una storia che poi ha portato all'unificazione d'Italia, però stasera avremo modo anche di capire come sono andate le cose. Ecco, una serata in cui parleremo chiaramente delle condizioni del nostro Sud, ma anche quindi una valenza diciamo sociale, ma anche una valenza proprio storica, perché viene ripercorso tutto un periodo storico, anzi secoli, in cui il Sud è stato vessato. Dobbiamo ringraziare Pino Aprile che ha fatto chiarezza e fa chiarezza su quella che è la vera storia di quel periodo, la storia del Sud, e va evidenzata e portata alla ribalta. Grazie a tutti.